Dio crea un mondo bello ma è incompiuto dando all'uomo suo collaboratore il compito di portarlo verso la perfezione definitiva. Ogni uomo sa che nel cammino della vita vi è una nube del Signore che ci precede tant'è vero che c'è il Salmo che ci ricorda se dovessi camminare in una valla oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Intanto abbiamo nel mondo tanto bello la presenza del male. Abbiamo il male fisico che è conseguente alla nostra natura limitata e quindi sensibile al dolore. Abbiamo il male morale che è prodotto dal cattivo uso dei doni dateci da Dio, cioè intelligenza, salute, bellezza, eccetera. Tutto acquista valore però dalla libertà senza la quale l'uomo sarebbe un robot. Vi sono mali causati dalle calamità naturali dovute alla limitatezza della stessa creazione e dai mali provocati dalle ferite inferte dall'uomo alla creazione. Basta pensare all'interessato taglio dei boschi e delle foreste, allo sfruttamento sconsiderato del sottosuolo, alla sfaldatura di intere zone collinare. Noi siamo bersagliati dalla televisione che ci parla di queste calamità che sono frutto dell'incuria o di un interesse economico sbagliato di multinazionali. Eliminare le fonti della sofferenza. Vari sono le violenze che provocano sofferenza come la negazione di rispetto della persona, della libertà, dello sviluppo fisico e morale. Dio non risolve i nostri problemi ma vuole che valorizziamo tutte le risorse da Lui messe a nostra disposizione per migliorare l'esistenza e per compattere la povertà, l'ignoranza, l'ingiustizia, la malattia. Quindi Dio ha dato a noi la capacità, di risolvere i problemi che interessano la umanità. Può sembrare un gioco di parole ma è bellissimo. Non ha fatto tutto Dio. Ha dato a noi una potestà immensa, grandiosa, bellissima. Ci ha resi partecipi della creazione e ha detto a noi crescete e moltiplicate. mondo bello che può diventare sempre più catastrofico ma voi con i doni che io vi ho dato e rispettando le leggi della natura voi dovete creare un mondo migliore.